Sulle allegre e coinvolgenti note della canzone di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, si apre l'incontro di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus con i ragazzi di Cosenza. Don Mazzi da anni si occupa di disagi giovanili e svolge la propria opera incontrando i giovani volontari e le istituzioni locali, con la convinzione che parlare e confrontarsi senza vergogna è l'unico modo per arrivare prima del disagio, di captare certe situazioni prima che diventino gravi. I giovani di oggi, io sono convinto che sono migliori di quelli di ieri, i giovani di ieri non avevano scelta, io che vengo dal medioevo, non avevano scelta perché erano buoni per forza, questi ragazzi che devono scelgere tra un sì e 20 no, capito, oppure tra due sì e 18 no, è chiaro che fanno più fatica, è chiaro che è più facile che facciano degli errori, ma gli errori che fanno, se vengono capiti, sono traguardi, sono momenti per crescere, quindi hanno bisogno di stima, devono vedere, quando guardano noi in faccia, devono vedere che noi siamo gente che gli stima gli vuole bene, punto, il resto viene dopo.